Scende di due il numero dei candidati a sindaco a Vittoria. Sia Nello Dieli del centrodestra che Luigi Mellilli hanno ufficialmente ritirato la propria candidatura seppur non abbandonato la campagna elettorale, stringendo anche nuove fondamentali alleanze in vista delle prossime amministrative del 4 e 5 ottobre. E così da sei candidati a sindaco in poche ore si è scessi a quattro totali. In gara restano Ciccio Aiello, appoggiato dal Partito Democratico e Sorgi Vittoria, Salvatore Di Falco con Vittoria Unita e Reset, Piero Gurrieri appoggiato dal Movimento 5 Stelle e Salvo Salemi, ormai unica espressione dell'intero centrodestra, proprio grazie al ritiro di Nello Dieli e l'accordo raggiunto con Luigi Mellilli. Accordo di fondamentale importanza, visto che ora la Lega di Nino Minardo e Orazio Ragusa trova alleati in Giorgio Assenza e anche nell'assessore regionale Ruggero Razza. Significa un centrodestra compatto e sicuramente più temibile. Proprio ieri mattina alle 11 l'incontro tra il candidato Salemi e l'ex Melilli terminato con un'eloquente stretta di mano. Questa mattina invece il comunicato di Lega e del Movimento Politico Sviluppo Ibleo che si dicono soddisfatti che per il bene della città si sia riusciti a trovare una sintesi il più possibile sostenibile con il percorso che si intende portare avanti. Adesso tutti uniti e compatti per animare al meglio una campagna elettorale che si annuncia stimolante ed esaltante. Resterà invece da capire le intenzioni di Nello Dieli, non più candidato a sindaco, ma che potrebbe comunque ancora avere un ruolo in questa tornata elettorale. Per adesso qualche settimana di riflessione e poi, ha affermato Dieli, si valuterà il da farsi, magari una candidatura in consiglio comunale sempre con accanto il centrodestra.